Buongiorno e benvenuti a questo podcast, io sono Aurelio Porfiri, vi auguro buon sabato e vorrei parlare o riparlare della questione del Salmo responsoriale perché è stata una diciamo delle battaglie della riforma liturgica, come sapete qualche giorno fa è uscita la lettera apostolica di Papa Francesco Desiderio Desideravi in cui appunto rinforza il suo incoraggiamento per dire poco per accettare la riforma liturgica, per adeguarsi a quelle che sono le leggi, le esigenze rituali della nuova messa, poi tanto nuova non è più però insomma si dice sempre nuova messa per distinguerla dalla messa tradizionale e una delle innovazioni importanti era stata quella del Salmo responsoriale, voi sapete che nella messa tradizionale e in quel punto c'è il graduale, il graduale che è il versetto o più di un versetto del Salmo molto elaborato e che può essere eseguito soltanto da un coro o da un solista perché è uno dei pezzi più elaborati del repertorio gregoriano, quindi non era sicuramente un pezzo da cantarsi dal popolo, era per il coro come poi insomma gran parte di quello che si cantava e che si canta ancora in queste messe. Però con l'introduzione del Salmo responsoriale l'idea è stata ecco, mettiamo questo canto meditativo in modo che il popolo può unirsi nel ritornello e poi un solista può cantare i versi. Però quello che osserviamo è che in molte nostre chiese questo è stato un falimento e voglio dire perché, perché la gran parte delle volte del Salmo responsoriale che deve essere cantato in realtà viene letto. Allora se è una meditazione è una meditazione lirica, non è una meditazione come da dire un testo per meditare perché allora ognuno solo può leggere per conto proprio, è una meditazione lirica, quindi si intende che il ruolo della musica dovrebbe essere importante. Poi certo ci sono tante teorie su come può essere eseguito un Salmo responsoriale, c'è il ritornello cantato con i versetti cantati sulle corde di recita che è un po' quella diciamo un po' più semplice, devo dire che anche io la adotto molto perché mi sembra che almeno salva capra e cavoli anche se io non la ritengo la migliore, però almeno è quella più fruibile da assemblee medie, insomma basta provarla un po' e si può fare. Quella che io ho sempre detto preferisco è quella del Salmo musicato melodicamente, cioè non con i recitativi ma proprio con delle melodie che si adattano a ogni versetto, io qualcuno ne ho composto in passato di questo tipo, questi Salmi vanno molto nel mondo statunitense, io penso siano molto belli, a volte ovviamente nel mondo statunitense alcuni li musicano un po' troppo sul carattere della musica leggera, però perché si fa un errore non vuol dire che l'idea sia sbagliata, cioè c'è questo ritornello che viene cantato da tutti che può essere cantato da tutti e poi ci sono le strofe musicate melodicamente, cioè con una melodia e non con le corde di recita o i recitativi, ecco insomma quella credo sia la formula migliore ma parlando di questo non dobbiamo dimenticare che però purtroppo il Salmo spesso non viene proprio cantato qualche volta viene cantato il ritornello non vengono cantate le strofe che poi non so bene che significa alcuni fanno una via di mezzo, cioè cantano il ritornello e poi viene recitato i versetti vengono recitati e l'organo sotto fa una specie di tappeto sonoro per accompagnare però ripeto, sì sono tutte soluzioni che in un certo senso rinviano la risposta al vero problema cioè che il Salmo dovrebbe essere tutto cantato, è un canto, è un canto, come anche il Santo dovrebbe essere cantato di solito il Santo è più cantato che il Salmo in media, sempre con ovviamente le solide melodie quelle che insomma più o meno tutti, ci sono due o tre santo che più o meno tutti quanti conoscono insomma non tutti veramente all'altezza però devo dire che mediamente viene più cantato del Salmo responsoriale allora già questo ci fa rendere conto di come ci sia veramente stato un falimento di quelle che erano le intenzioni nella riforma liturgica, è inutile che si dice eh ma ci vuole tanto tempo ma sono passati decenni e decenni e decenni e il problema non è, anche se uno accettasse il fatto che ci vuole molto tempo il problema non è che ci vuole molto tempo soltanto ma che le cose non sembrano andare verso un miglioramento ma anzi sembrano sempre peggiorare e peggiorare quando si fa una cura a un paziente a volte può succedere che nei primi tempi il paziente peggiore e poi comincia a migliorare ma se il paziente continua a peggiorare, a peggiorare, a peggiorare e non migliora mai allora uno qualche domanda deve cominciare a farsela e molti se le sono fatte le domande, se le cominciano a fare purtroppo quelli che le dovrebbero fare hanno una visione così ideologica che non riescono a vedere proprio il problema comunque se voi avete commenti metteteli sotto a questo podcast e io sarò molto contento di poterli ascoltare e eventualmente di poterli leggere e eventualmente di poter rispondere se necessario vi ringrazio e vi auguro un buon sabato e una buona domenica